buongiorno caro professore conte spero che questo mio filmato possa arrivare a lei io mi chiamo salvo cincotta sono un ex bancario ho lavorato nel sistema bancario per oltre vent'anni anche in posizione di dirigenza da 12 anni mi occupo di crisi d'impresa e assisto le aziende appunto che hanno questo tipo di problematiche da tanti giorni vedo che lei va in televisione e appunto non fa altro che dire agli italiani che il governo ha fatto un grossissimo sforzo ed ha immesso sul mercato 400 miliardi di liquidità professore proprio così lei non ha messo alcuna liquidità lei ha messo 400 miliardi di garanzia quindi in realtà questo denaro deve essere erogato dal sistema bancario quindi la garanzia viene prestata al sistema bancario che si dichiara disponibile a erogare questo credito ma parliamo di questo credito nel decreto avete detto quali sono le regole che appunto permettono agli imprenditori di ottenere questo finanziamento garantito sono tante io mi soffermo su quelle che riguardano la piccola e media impresa i famosi 100 mila euro di fatturato quindi l'azienda ha diritto ad avere 25 mila euro di finanziamento garantito dallo stato se lo scorso anno ha fatto almeno 100 mila euro di fatturato e se non si trova in una posizione di diciamo di segnalazione in crifo in centrale rischi quindi non c'è nessuna segnalazione contraria bene ipotizziamo che questo cliente da 100 mila euro di fatturato anno abbia già nel sistema bancario 20 mila euro di affidamento che l'abbia proprio con banca intesa che è una delle prime che ha indicato le linee guida per l'erogazione sul proprio sito istituzionale la banca dice che è disponibile all'erogazione del credito a patto che questo sia superiore di almeno il 10 per cento di quello già concesso al cliente cosa vuol dire che se io ho un fido di 20 mila euro magari in questo momento utilizzato quasi per intero la banca è disponibile a erogarmi il credito di almeno 22 mila euro ma una condizione devo prima annullare il con le somme che mi verranno erogate i 20 mila euro di credito in bianco quindi ammesso che io riesco a ottenere tutto l'importo 25 mila euro di credito garantito banca intesa mi darà i 25 mila euro ma tratterrà i 20 mila euro in bianco quindi trasforma il suo credito chirografario in credito garantito dallo stato ma io cosa ho ottenuto in più 5 mila euro ma a quale condizioni nel decreto viene indicato che la banca che eroga questo credito dovrà applicare come tasso le condizioni medie applicate dal sistema bancario nelle operazioni di questo tipo presumo si prenderà come riferimento il tasso medio che viene pubblicato dalla banca d'italia ma lei presidente sa quanto è il tasso medio riferito al sistema per crediti inferiore a 25 mila euro in questo momento è l'8 e 64 cioè significa che se la banca mi applica all'8 e 63 già sta ottemperando alle disposizioni di legge avete previsto anche che io debba pagare come imprenditore per ottenere il credito la commissione dello 0 25 primo anno dello 0 50 il secondo e il terzo anno dell'uno per cento il quarto il quinto e il sesto anno applicando questa commissione a 25 mila euro io dovrò pagare in totale 585 euro allora se io pago 585 euro su 25 mila euro di erogato che utilizzo l'incidenza media sarà del 2 40 ma se io pago 585 euro su un utilizzo effettivo di 5 mila euro questo raggiunge l'11 e 60 l'11 e 70 per cento dell'utilizzato quindi una bella commissione su questa marginalità di utilizzo avete avuto tanta cura a creare le regole per l'utilizzo del credito ma avete curato meno le modalità di erogazione ma questo decreto è stato fatto per immettere liquidità o è un decreto come al solito salva banche perché di questi 400 mila 400 miliardi messi a disposizione dal governo molto probabilmente con questo sistema dichiarato da banca intesa per il buono 80 per cento 90 per cento serviranno a trasformare soltanto i crediti chirografari in crediti garantiti dallo stato ma era questo il vostro intendimento perché se era questo cioè non posso crederlo io ritengo che chi ha il governo e con i consulenti che lo assistono debbano essere persone capaci ma questa capacità non viene fuori da questo decreto e neanche dalla gestione che verrà applicata per ottemperare a questo decreto lascio a lei le considerazioni però le posso dire che siamo un poco stanchi di queste dichiarazioni vittoriose usciamo dalla crisi con questi 400 miliardi non usciamo da nessuna parte della crisi le vorrei rammentare che se salta il sistema commerciale e industriale delle imprese italiane salta tutto salta pure il governo perché quello che va effettivamente a creare ricchezza e la produzione sono le imprese artigiane le imprese commerciali imprese industriali sono quelle che alimentano gli stipendi dei deputati dei senatori degli impiegati pubblici del pagamento delle pensioni ma se non assistiamo le imprese affinché possano continuare a lavorare chi pagherà tutte queste cose presidente rifletta un attimo quello che le dico perché sennò veramente stiamo andando a sbattere la faccia al muro cordiali saluti presidente grazie